Graziano è una persona, è un prete che è venuto qua in Italia per fare i suoi mestieri, ha studiato per essere prete, quindi sta facendo soltanto quello. Si aggiunge un altro personaggio nel caso di Guerrina Piscaia. Nella vicenda che ormai inizia ad assumere tinte boccaccesche si inserisce anche il fratello di padre Faustino, il parroco superiore di padre Graziano a Caraffello. Proprio il religioso che adesso si trova in Congo, padre Graziano confidò l'esistenza di zio Francesco, personaggio chiave in questa vicenda sempre più misteriosa. Il fratello del frate Premo Stratense è arrivato ad Arezzo per un confronto con padre Graziano, detenuto nel carcere di San Benedetto dal 23 aprile scorso. Io sono venuto con l'avvocato Zaccheo stamattina in nome della comunità congolese perché volevo fare due o tre domande a padre Graziano, però non è stato possibile perché il giudice non mi ha concesso l'autorizzazione, quindi passerò la prossima settimana. Il mio fratello nel mese di marzo, se non mi sbaglio, ha avuto un problema del cuore, è stato operato e è andato in Congo per riposo, due o tre mesi, quindi il primo maggio non c'era, era in Congo. Ma cosa pensa di questa vicenda? Ma no, lui ha parlato con Graziano, Graziano l'ha spiegato tutto. Il mio fratello sa che padre Graziano è innocente, anche perché di tutto quello che hanno fatto, voi avete visto come hanno praticamente cambiato la casa, hanno portato anche i cani di questo e quell'altro, hanno cercato dappertutto, non hanno trovato neanche qualcosa di guarido. Quindi noi come comunità congolese stiamo chiedendo di vedere Graziano fuori da questo muro qua, del carcere, perché non si può arrestare qualcuno perché ha sbagliato a mandare un messaggio. Noi vogliamo vedere le prove della colpovedenza di Graziano. Che rapporto c'era tra padre Graziano e Guerrina? Da parrocchiare. Graziano ha fatto una cosa che non ha potuto neanche fare mio fratello, che è così duro, che ha cercato di recuperare questa famiglia che era già quasi separata, cioè Mirko e la guarina. Se chiedete lì a Caraffaele, quelli che hanno visto Guarini ultimamente, prima di primo maggio, vedete una signora recuperata, cioè una guerra così si lasciava andare, però ci ha fatto capire che no, tu sei l'amore di Mirko, dovete stare insieme, dovete proteggere la vostra famiglia, Lorenzo è il vostro figlio. Quindi ha fatto un lavoro veramente che tutti non sanno fare.